Questa mattina in municipio Giovanni Muzzatti, presidente del Lions Club Pordenone Naonis, ha consegnato all'assessore comunale Vincenzo Romor 20 buoni spesa da destinare a famiglie bisognose che sono state individuate dai servizi sociali del comune, con priorità a nuclei con minori e anziani soli. Assieme agli operatori dei servizi sociali sono stati individuati dei nuclei familiari in difficoltà. A queste persone sono state riservate questi piccoli interventi di sostegno. Noi ringraziamo formalmente il Lions per l'attività che ha fatto e ringraziamo a nome delle persone che riceveranno questo aiuto queste persone che hanno con la loro buona volontà hanno avuto l'idea e hanno realizzato questo sostegno per una ventina di gruppi familiari. È un'iniziativa dove noi organizziamo un'attività a livello culturale, quindi presso il Teatro Verde del Comune Pordenone con degli artisti locali, in questo caso l'abbiamo utilizzato, con degli spettacoli. Abbiamo raccolto 68 buoni, liquidamente 68 buoni di 100 euro, quindi 6.800 euro per questa iniziativa. L'organizzazione sono già sette anni che la portiamo avanti, il nostro obiettivo è di continuare perché è un'opera concreta che possiamo devolvere in toto alle strutture del nostro comune.